Certamente è una collaborazione molto sentita, molto sincera, perché anzi è una collaborazione entusiasta, vista l'importanza che ha questo tipo di operazione. È un'operazione culturale, forse la più importante operazione culturale che si svolge ad Imperia. Quindi chiaramente non ci si poteva esimere da mettere tutte le nostre forze a disposizione di questa Fiera del Libro. In poche parole, perché voglio usare solo poche parole, perché abbiamo già detto tanto, avete già registrato tanto su questo, in queste interviste che avete appena fatto. Quindi dico soltanto che mi preme far vedere come è presente a questa Fiera, con un suo stand, in cui sarà una parte dedicata al discorso dei amici, perché voi sapete che su questo tema noi vogliamo investire molto, perché merita di essere riconsiderato e considerato nel valore giusto che deve avere. E poi anche gli scrittori locali, voi sapete che Imperia è ricchissima, ha avuto una tradizione letterale, adesso non sto a citare nomi, ma comunque ha avuto un'ora, ma ha avuto un'ora di personalità nel campo della letteratura adesso. E quindi non ci troviamo, lì venite a vedere, le persone verranno a visitare lo stand della biblioteca sulla Fiera del Libro e vedranno veramente quanti personaggi nel mondo della cultura e della letteratura ha Imperia, di cui deve essere orgogliosa e di cui i politici perlomeno sottovalutano l'importanza.